e tra i detti che vanno in Sicilia quando c'era da prendere i quattrini per ridare l'acqua a Palermo questi farabutti di oggi che fanno finta di essere persone per bene non lo dite che questi che lì sono onesti, è che tutto è un bruglio di lounge questo mettetelo in testa perché è gente che vive soltanto per i loro interessi ce n'è 4 per bene e 96 no, quindi questo ve lo metto per iscritto questi farabutti di oggi, l'ha detto poco fa anche Gabriella i soldi della Sicilia si fottero tutti e se li sono portati altrove perché poi signor Renzi fa queste le finte promesse dei 500 euro ma dove li prende secondo voi questi quattrini se non dai fondi strutturali che ci hanno fregato ebbene noi i fondi strutturali li abbiamo dati tutti alla Sicilia abbiamo realizzato una marea di cose, io ero responsabile in quel momento c'era Totò Cuffaro in quel momento che poi diciamoci la verità è l'unico che ha pagato per tutti per cui a lui va comunque il mio pensiero sempre, questo ve lo garantisco avrà fatto qualcosa, io non lo so, non sono magistrato, non posso sapere quanto ci sia di vero o non rispetto ai motivi che l'hanno portato poi in galera ma vi posso garantire che a me se non concesso e che qualche cosa di vero ci sia rispetto a tutte l'autica se fottero piccola e su tutte fuori almeno lui è l'unico che ha pagato per tutti per cui va comunque il nostro ringraziamento